E' bello a tutti ragazzi, siamo io raga, oggi torniamo con un nuovo video, non di Fortnite, però di Minecraft con un amico E però, raga, vi spieghiamo già tutto subito su Minecraft, dopo l'entro, a dopo Ok, raga, eccoci, eccoci su Minecraft con iPads che già conoscerete iPads, ciao Che si combina oggi? Oggi dobbiamo farci banale usando dei hack in questo video E, raga, prima che mi chiederete perché ho messo la fonte colore qua in alto a destra E per censurare il nome in caso i proprietari del server vedano questo video Comunque, raga, anche in caso, raga, vi ricordo, anzi, in realtà non l'ho manco detto Che domani, no, che domani, scusate, stasera, stasera in live ci divertiremo su Fortnite Che praticamente torna a pinnacoli, pinnacoli pendenti dopo anni e anni Pinnacoli praticamente compie 4 anni se non sbaglio Giusto iPads? Sì Ok, e allora che si fa? Si inizia Cominciamo con l'hack degli X-Lay Eh, eh Dobbiamo fare Praticamente Fammi un attimo parlare Praticamente senza avere su opzioni, pacchetti di risorse e le X-Ray Praticamente Basta Basta Avere worst E il gioco è fatto Mo' vi spiego come attivare le X-Ray senza la texture pack Andiamo Comunque Un attimo vi metto Velocemente a italiano così capite meglio Aspettiamo un attimo Ok Andiamo su Option K-Beans E mettiamo questi Che l'X-Ray in questo caso ce l'ho su F6 Praticamente io non so che serve ClickBui Però vi consiglio di più Navigator e X-Ray Mo' Navigator e F4 Questo Che possiamo anche mettere la Fly Autoconnect anche Che se usciamo e rientriamo Non ci fa Anche in login Non ci fa Mettere Vabbè Loginare Praticamente F6 Raga Ecco a voi Le X-Ray Vabbè Vabbè Iniziamo Andiamo già subito in caverna Sì Ok Prima Dobbiamo fare attenzione La mamma mia La copretta La mi sono buttato Al pezzo Non l'hai visto come mi sono buttato Al pezzo Ok Ok raga Prendiamo il carbone E iniziamo con l'X-Ray Già Ok Già trovato del ferro Vediamo se i creatori del server Ci scoprono Ah ci serve della legna Ah la vai a prendere te Appena Appena hai fatto Tipati Ok Ma per te I creatori del server Ci scoprono Sì E anche L'intento Che voglio Sì Ok Prima Iniziamo con l'X-Ray Dopo E dopo Proviamo A fare un po' di pvp Con l'Aula Già Capito il gioco Eh Ok Prima cominciamo con l'X-Ray Raga mi sono scordato una cosa Che Appena adesso Mi sono accorto Che si è stoppata la musica E devo mettere ripeti Ok Ok Comunque la cosa bella Che con l'X-Ray Si Si vede Come se avessi le torce Spiego Hai la legna Eh si Che mi servono le torce Puoi attivare la full brightness Che ti fa vedere Full brightness Sì Cos'è Ti fa vedere senza le torce Sento già Già un Un coso Come si chiama Uno scheletro Ma non lo vedo Boh raga Non lo vedo Hai pezzo Si Ma dov'è lo scheletro Ok io mi tipo da te Quello racconto con il genio Si Comunque ho già trovato Ho già trovato I I diamanti Ok Facciamo Già Una fornace E cuacciamoci Vabbè Voi sapete Già Come funziona Boh Stavo leggendo questo Comunque raga Se volete Se volete Le texture pack Che ho In questo video Ve le lascio In descrizione Che come vedete Non è come un normale Minecraft Comunque Vi lascio in descrizione E te E te Stavo 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 Ma non penso Non penso E raga Arriva subito Raga Eccomi Pensavo che Avevate visto Mio fratello Ma Alla fine No Perché sto usando La webcam Del pc Raga Non sopporto più Mio fratello Veramente Comunque Comunque Hai Hai per caso Stick Mio fratello Bravi Bianni Le sai Mangini Ah Ecco Ok Picon Sotto Meg Опuno Sotto Ok Mi faccio l'elmo adesso Vuoi un elmo anche te? Dov'è ma ora è perci Ah ecco ti ho visto Ai pezzi andiamo a prendere già i diamanti Sì Che abbiamo già la possibilità Comunque ragazze non ci bannano Ma dico se non ci bannano Allora sono ciechi Ok Io sto già prendendo l'or Allora Raga se non ci bannano almeno a full armatura Io stacco il video per non far diventare troppo lungo il video Facciamoci delle torce perché non voglio che spawn Non ci bannano almeno a full armatura Ok Ah ma No 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 Ah ma no Ai perci Vabbè. Hai pezzo? Vieni. Vieni che io sto raccogliendo tutto. Ok, vado ai diamanti. Vado, hai messo la... ...la...it's a ray. Ok. Ok, vado ai diamanti. Ok, vado ai diamanti. Ok, vado ai diamanti. Ok, vado ai diamanti. Ok, il primo diamante è preso. Hai già un piccone di ferro? No. No, sto facendo. Ok. Ok, devo stare attento che c'è la lava qua. Ok. Ok. Raga. Dal nome che ho messo... non è possibile che non ci bannano. Adesso non posso farvelo vedere perché ho paura che poi... Poi... ...vedono il video quelli... ...di creatori del server. Quindi non ve lo faccio vedere però... ...col nome che ho messo... ...non è che... ...dovrebbero bannarmi instant... ...già dal nome. Eh Piazza, dove sei? Che tu ho perso di nuovo. Eh, sono... ...davanti a te. Raga, con l'izzeria è un po'... ...è un po' complicato... ...escavare. Ok, ho già venti... ...pezzi di diamante. Facciamo che... ...far venire i pezzi. Hai pezzi ma... ...è... ...per farti venire, giusto? Sì. Ok, vieni. Dai, scriviamoli... ...per essere bravi. Ok, facciamoci già l'armatura. Raga... ...è impossibile... ...perché ci hanno ancora bannato? Ma sicuro che... ...che hai sorvegliato? Eh... ...pure non so... ...perché io... ...ho... ...tipo... ...quasi in amato in diamante. Eh... ...pure io... ...manca soltanto... ...e... ...i calzoni. Vabbè... ...hai capito che intendo... ...i pantaloni. ...e... ...facciamoci... ...el... ...pecon. ...e... ...e... ...mi faccio quello in diamante? Sì. Tanto sono ricco... ...spendiamoli... ...si diamanti. Pfttt... ... onionati. CffwульJe. ...pufff! ... Eh raga. non mi ricordo come si fanno i pantaloni ah così ah no ancora uno mi manca diamante, diamante, diamante diamante eccolo raga perfetto non ci hanno bannato il nostro il nostro intento è fallito strano perché in un altro server mi avevano bannato instant non instant però però dopo un po' mi hanno bannato nell'altro in questo manco e io sono full armatura ai pez sono full armatura te dove sei? eh io sono solo tu ok ci ritroviamo su questi ultimi diamanti poi andiamo super piccini ok io ti aspetto su raccogliamo stacchi di diamante cosa? abbiamo fatto blocchi di diamante altri blocchi? si quanti stack? facciamo 64 di blocchi di diamante ok raga come non detto andiamo a cercare altri diamanti diamanti tanto colizzerai è un gioco da ragazzi ma i pezzi per me non controllano comunque per me stanno a dormire tutto il tempo io ho ventato di diamante io ancora sto andando a prendere hai pezzo che perché vedo una cassa? ehm infatti io no non ho più non hai più il permesso di di i'm green per interagire in questo claim ai pezzi c'è una cassa però non la vedo non me la fa andare ad aprire e di prova lì c'è che c'è claim ma no ma che è successo cosa? mi stanno iniziando a togliere le cose bella l'izzerei mi hanno scoperto ai pezzi a me no a me no scappo 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 mi hanno scoperto mi hanno tolto tutto io ho 34 diamanti 7 giorni per iniziare io sono scappato sei stato bannato temporaneamente per iniziare il tuo ban scadrà tra 6 giorni 23 ore 59 minuti ok comunque guadagna condivisione io ce l'abbiamo fatta ci siamo fatti bannare vediamo un attimo cosa cosa combina ipads ancora nel server attento hanno scoperto eh no ancora 34 diamanti un attimo che vi metto la sua finestra ok ok un attimo che tolgo vabbè no perché invito lui in un server ho invitato per sbaglio lui in un altro server vabbè vediamo vediamo ai pezzi non ti hanno scoperto te ok a me non mi hanno ancora scoperto però ho tentato quanto diamanti ma che se vuoi li proviamo nei prossimi episodi boh vediamo raga per un secondo episodio con l'izzeray dovete almeno lasciare quanti like ai pezzi ma mi sa che mi hanno scoperto perché c'è un operatore che mi stava dando comunque quanti like devono lasciare per un prossimo episodio con l'izzeray ah ai pezzi 10 no di più come di più 20 20 raga arriviamo ai 20 mi piace per un prossimo episodio con l'izzeray e però ovviamente se riusciamo facciamo lo stesso server non so facciamo in un altro server boh facciamo in un altro server che diteci voi che server ma tolgo la finestra di ipez e va boh raga per oggi è tutto e diteci se vi è piaciuto il video se vi ha fatto ridere con l'izzeray e raga dammi le strendini e ipez è tutto è tutto e alla prossima adios che e Grazie a tutti. Grazie a tutti.